Ehi Rox, cos'è questo? Il kit Eurovision di Margie Proprio quello? Non mi direi che non te lo metti manco tu No no, io me lo metto, mica faccio come Gabriele Tu invece vedo che sei prontissima Yeah Bravi raga, ti aspettavo Non è possibile Oddio, Vittoria ci ha parlato dal quadro Arriviamo Vediamo se Giuseppe è già lì Giuseppe sei arrivato? Appena è arrivato, è oggi con me il mio ofizio Eurovision Ma Cristiano li ha fabbricati in serie Vola a Rotterdam con il club di suggestioni press Room Eurovision Song Contest 2021 Con Marco Bonardelli, Rox Barbera e Giuseppe Scuticchio Sabato 22 maggio alle 20.30 su Clubhouse Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti